Bentornati, oggi voglio parlarvi dei 7 principi postura corretta che cambieranno per sempre il vostro modo di vedere la salute e la malattia. Principio numero 1, i sistemi del tuo corpo. Il tuo corpo è fatto da sistemi, spetta a te mantenerli puliti in ordine se vuoi che funzionino bene. Il tuo corpo è una complessa rete di sistemi interconnessi. Mantenerla pulita in ordine è fondamentale per il loro buon funzionamento. Pensiamo alle articolazioni, al sistema respiratorio, al sistema linfatico. Ognuno ha una sua funzione ed è fondamentale per mantenerci attivi e in salute. Principio numero 2, la fisiologia come guida. La fisiologia studia come funzionano i nostri sistemi. Per comprendere i nostri sistemi ci affidiamo alla fisiologia, una branca della medicina che studia in modo dettagliato come ogni parte del nostro corpo opera. Principio numero 3, malattie e disfunzioni dei sistemi. Il nostro corpo si ammala quando i nostri sistemi non funzionano più. Una malattia è un'alterazione dello stato fisiologico dell'organismo. Non si manifestano improvvisamente, ma spesso deriva da un graduale degradamento della capacità di adattamento dei sistemi del corpo. I segni e i sintomi, come il dolore, sono campanelli d'allarme, ma affrontare solo questi non basta. Comprendere e ottimizzare il funzionamento dei tuoi sistemi è la chiama per mantenere la salute a lungo termine. Principio numero 4, riserva dei sistemi e capacità di adattamento. Dopo anni di esperienze in fisioterapia posso confermare che le malattie si manifestano quando le riserve dei nostri sistemi sono prossime all'esaurimento. Riconoscere i segnali precoci è cruciale per intervenire in modo preventivo. Principio numero 5, in fase acuta affidarsi ai professionisti della salute. Se sei in una condizione in cui c'è una patologia e i tuoi sistemi sono gravamente compromessi, sicuramente potrai trovare un professionista della salute che può aiutarti. Quando la patologia è perciò in fase acuta è sconsegnato a intervenire autonomamente. Principio numero 6, le metodiche posturali per conoscere i sistemi del tuo corpo. Le metodiche posturali attraverso esercizi e metodiche specifiche ci insegnano a mantenere i nostri sistemi in maniera ottimale. Sono un complemento ottimale per chi sta già seguendo un percorso di cura oppure per chi sta seguendo un percorso della salute. Con le metodiche posturali trasformiamo gli esercizi in un'occasione per conoscere il nostro corpo e per imparare a comunicare con esso. Settimo principio, con la guida postura corretta iniziamo dalle cose semplici. Nella nostra guida esploriamo i sistemi fondamentali che devi conoscere per mantenere il tuo corpo in salute e quello delle persone a te care. Per questo nella guida siamo partiti da sistemi semplici da mantenere fino ad arrivare a sistemi più complessi da percepire. Proprio come quando si impara un'arte come la pittura o la musica è fondamentale iniziare dalle basi per poi passare a cose più complesse. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per iniziare il percorso sul sito Postura Corretta.